Oddio, filo, filo, filo! Cosa? Mi sto pisciando! Mi sto pisciando! Mi sto pisciando! No, 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 no! Snobbata! Chi è? Snobbata! Ciao! Sto per fare una sorpresa gigante alle mie bimbe e nemmeno io ho idea di come andrà a finire. Domani mattina le lascerò qua a casa e andrò in un posto a prenderle questa gigantesca sorpresa che cambierà a noi la vita per sempre. Ma vediamo tutta la storia del viaggio e soprattutto come la prenderanno alla fine. Sì, piccola? Vado, ma torno, torno! Raga, ore 5 e 37, piove, tutto pronto. Si parte. Sono le 10 in punto e tra un'ora e mezza abbiamo l'appuntamento ufficiale con... E poi io non sto nella pelle. Mi sa che non riesco neanche a farlo il video. Mi buttalo sul cane direttamente. Ed è proprio per questo che erediterò io tutti i cani. E perché è stato bippato il nome? Beh, perché dovete sceglierlo voi nei commenti. E abbiamo messo anche un sondaggio su Instagram nel profilo Filippo Capriotti. Se seguite Filo su Instagram già sapete com'è il nome. Non vedo l'ora di conoscere la nuova cagnolina e ancora di più di vedere come la accoglieranno le nostre bimbe, Lizmere e Shirley, nel nucleo familiare. Siamo arrivati, raga. Dio boh, non sto nella pelle. Sto tremando. Finalmente siamo a Moncrivello all'allevamento Shiravood di Alberto che ci sta aspettando. È una piccola Mary con i capelli più lunghi. Il maschio, un piccolo Mary. Non vogliamo più un allevamento di colli? Ah, ma ce l'hai ormai, eh? Ciao. Ciao, ma te chi sei, eh? Sei come Lizzo e Shirley? Eh, ciao. Ma è diventato così? Sì. Così grosso? Sì. Cacchio, bellissimo. Qua sembra Mary, stava sempre da una parte e non si considerava nessuno. Si somiglia a un botto. Lei invece sembra moltissimo Lizzo, da piccola. Non ce la faccio. Troppi ricordi. Ma chissà chi sarà la nostra. Perché moriti? Ciao, piccolino. Ciao, ciao, piccolino. Attenzione. Sta per arrivare la nostra piccola. Ma questo, ragazzi, è un paradiso, ma guarda come... Ciao, piccola. Ciao. Ma te chi sei? Oh, come carino. Ehi. Hai paura? Eh? Guardi gli occhioncini, che bello. Bello questo occhietto. Ciao, amore. Come sei paffuta. Mi commuovo. Vai, piangi, piangi. Vai. Sfogati prima che inizi a cagare. Sfogati. Delicatissima. Ciao, piccola. Ti vuoi chiamare? ha mezzo occhio blu, raga. Guardate, si vede. Questo deve essere tutto nero. Tutto questo, tutto marrone. E questo invece deve essere... Deve avere l'interno azzurro. Si vede, piccola. Eh? Cucciolino. Ti piacciono le mie coccone? Spero di sì, perché te ne farò tanti, tanti. Comunque l'avete abbracciata tu, di tranne io, eh? Adesso la facciamo abbracciare a te, dai. Guarda, che scudizzola, eh? L'infame scudizzola. Blu, vuoi zompettare un po'? Vuoi correre? Vai, appoggiala, vai. Ciao! Ciao, zampetta! Ciao! Ha già imparato a dar la zampa, hai visto? Prima skill completata. Fammi vedere come corri, dai. Facciamo una corsa? Dai, 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 dai! Zampetta! Ma come reagiranno Litz, Mary e Shirley alla sorpresa? Ti piace già? Ah, ti piace già la telecamera? Hai già capito che sei un'attrice? Ti piace la videocamera, allora? Sei innamorato della videocamera? Allè, lecce e muaca. E come Mary? Ha scelto il padrone, mi sa che la devi tenere te, eh? Lecca tutti, lei. Adesso mi faccio un bagno di Colli. Questo è un sogno, ragazzi. Sono quasi tutte bimbe, tra l'altro, anche loro. Mi sembra Litz, ragazzi. Voi non l'avete visto, ma è un guare a Litz da piccola, ve lo giuro. Tra l'altro, per gli amanti come noi di questa razza, vi consigliamo vivamente il contatto di Alberto, che è gentilissimo, disponibile e professionale. Come potete vedere, i suoi cani sono bellissimi e vivono in condizioni di serenità esagerate, tutti molto socievoli. E noi siamo già contentissimi della nostra nuova bimba. Vi lasciamo i link e i suoi contatti in descrizione per chi fosse interessato. Qui c'è il certificato della veterinaria di visita di buona salute, eccetera. La scheda di inoculazione del microchip, le fotografie dei reni che ha fatto. Qua ci sono tutti i cuccioli, che l'ha evidenziato quelle che sono le sue. Certificato di visita turistica, fotocopie dei test genetici della madre, del papà. Questo è il passaggio di proprietà. E la madonna! Allora, mi serve una copia mia e una copia tua. Firma qui e una firma. E la casa è sua. Ha fatto lato. Tra l'altro, Alberto, oltre che allevatore, è anche handler. Ed è il presentatore di cani d'esposizione. E la madonna! Va bene, piccola. Salutiamo mamma e fratellini e andiamo a far la pappa, ok? Vieni, salutino ai fratellini e alla mamma. Quante bella. Ciao, piccola. Vi facciamo sentire per la prima volta la vozzina di Blu. Uè, voglio, iscrivetevi al canale. No, no, no. Allora, io ancora non ci credo, non sto nella pelle. Andiamo adesso subito per la prima volta al ristorante con Blu e vediamo come si comporta in un luogo pubblico. E poi torniamo a casa perché non vedo l'ora di vedere cosa fanno lì su me e riescirli. Sei pronta, piccola? Entriamo nella gabbietta, piccola. Vai. Non vuoi dare? Dai, che dopo ti liberiamo. Vai, dai. Allora, è spaccata. Ce ne andiamo a casa? Inizia la tua vita. Una nuova avventura. Siamo un po' spaventate perché è la prima volta che siamo in un posto così affollato. Mangiamo un piattino veloce, ci tranquillizziamo e andiamo a salutare lì. Proviamo a darle un piccolo pezzettino di pane anche a lei. Guarda, te lo appoggio qui, guarda, te studiatelo e quando vuoi te lo mangi. Saremo pazzesco. Va bene, il blu ancora non sa camminare bene al guinzaglio, anzi ci gioca. Ma saliamo in macchina. Aspetta, mi suona il telefono. Videochiamata poi. Liz! Ciao Filo, dove cavolo siete? È un botto che siete via. Ma siamo in giro Liz, te l'ho detto, è una gita fuori porta. Una gita fuori porta? Stiamo visitando una località nel Piemonte. Ma mi sembra strano, sei sicuro che non mi nascondi qualcosa? No, no, niente di strano, tranquilla, guarda, siamo in una bella piazza soleggiata. Cos'hai in mano? Questo, questo, questo no, non è niente, una porta. Mene Cirli, venite, che questo ci rapporta alle frottole. Mi raccomando, stami bene e prenditi cura di Mene Cirli. Sbrighati a tornare. Mi ha quasi sgamato. Adesso andiamo a casa e vediamo di farle la sorpresa. Prima di andare dalle bimbe pesiamo blu. È una bilancia piccola, non fa niente, è una bilancina. Ah però, sei chili pesi, eh? Andiamo a far... Ah no, te l'hai già fatta la colazione. Allora andiamo dalle bimbe. Veterinario fatto, andiamo tutti insieme dalle bimbe. Siete pronti? Sì, pronte piccola. Il viaggio è tutto tranquillo, sembra che blu sopporti benissimo la macchina. Anzi, sta proprio con un massaggio alla testa, rilassante, come una piccia. Proseguiamo. Oddio, blu, blu, blu! Cosa? Mi sto pisciando! Mi sto pisciando, mi sto pisciando! No, no, blu, no! Mi ha pisciato di mano! Eh, ormai cosa facciamo? Oddio! Mi ha pisciato la macchina! Oddio, oddio! No, no, mi è stato tutto pagliato! No! Per non dire che si è pisciato addosso da sola stava andando la colpa al cane, oh! Eh, cavolo! Blu, mi hai fatto la pipì addosso! Porca boia, blu! Abbiamo iniziato malissimo, te lo dico! Abbiamo iniziato malissimo! Se non diventi un'attrice brava e non raggiungiamo 10.000 like per questa cosa, io ti giuro che ti ridò indietro! Brava, piccola! Così si fa! Partita col piede giusto, giorno 1, tante emozioni! Ecco, blu, qui facciamo una sorpresa alle bimbe, ok? Tu mi aspetti qua, devi entrare lì dentro, qui dentro! Vuoi entrare qui dentro? Vuoi entrare qui dentro? Vuoi entrare qui? Va bene, entriamo qui! Ok, H, tu prepara il pacco, io vado a prendere le bimbe! Va bene! Si va! Ciao, bimbe! Ho una piccola sorpresina per voi! Volete venire con me a vederla? È un sì? Andiamo allora, dai! Liz, Mary e Shirley stanno abbaiando come delle matte! E lei le sta ascoltando! Le sta ascoltando con curiosità! E non sa che loro tre saranno la loro nuova famiglia! Assurdo! Bimbe, siamo quasi arrivati! Tra pochissimo ci sarà la super sorpresa! È arrivato Filo con le tre cagnoline! Ciao, piccolina! E anche sua mamma! Ora non resta che vedere che cosa accade! Aspetta, blu! Vieni, blu! Vai! No, ferma! No, no! Siete pronte alla sorpresa? Dai, andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Eh, ciao, piccole! Ciao! Bimbe! Bimbe! Guardate cosa vi ho preso! Siete pronte? Siete pronte? Eh! Ciao! Ciao! E avete visto? la cacca. Pico hai visto? Ci sono tre cagnoni grossi, guarda. Già Pico. Vieni Liz, vieni qua, guarda che c'è blu. È uno scherzo vero? Ditemi che è uno scherzo. Liz, guarda. Vieni, non far l'offesa. Va bene, adesso ci prenderemo un po' di tempo per inserirla a dovere all'interno del gruppo, ma vi faremo vedere tutti i passaggi. Non perdetevi i prossimi video. Iscrivetevi al canale. Grazie a tutti.